Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel tale Ale, eccoci qui di nuovo con il nostro Morecambe Fishing Club e Ermenegildo Braciolone, siamo una partita di coppa e siamo ai quarti di finale se non sbaglio, FA Cup, si se non sbaglio si, ma non mi ricordo perché da un po' che in realtà non mi butto qui nel... Quello stesso Morecambe Fishing Club, tabelloni, vediamo un attimo le FA Cup come siamo messi, non ci fa vedere niente, dove siamo? Scusate allora, FA Cup? No eh, non so se stia caricando le squadre o magari non ci siamo, non so, non si sa, va bene, la prendiamo per buona? Turno 4, sì allora non ci siamo ancora lì e allora vediamo un attimo il calendario perché non ricordo se questa era il ritorno, forse anche no, vabbè forse era un'altra coppa, non mi ricordo, va bene. Allora buttiamoci direttamente in partita, giochiamoci la nostra partitozza, comunque ragazzi abbiamo acquistato molti giocatori, vi ricordo che non possiamo venderli adesso, io ne ho acquistati molti a parametro 0 per poterli poi rivendere, vi ricordo che alcuni giocatori non erano disponibili all'acquisto perché eravamo nella... Nella sessione di gennaio, quindi alcuni avevano già firmato quelli che mi avevate consigliato a parametro 0, molti non erano più a parametro 0 perché erano stati acquistati. Allora, Egazzi, vediamo un attimo se possiamo cambiare qualcuno, Akpom ci può stare, Benzi anche dai, Mulian a Zog, proviamo a Zog magari a metterlo al posto di Egazzi che era comunque un ottimo giocatore, Sara lo facciamo giocare, abbiamo un bel po' di giovani comunque, molti cresceranno, molti diventeranno future promesse, o meglio sono future promesse, in teoria dovrebbero crescere abbastanza, Poi nella prossima stagione alcuni giocatori che abbiamo comprato nella prossima sessione di mercato riusciremo a venderli per fare un piccolo budget per migliorare la rosa, come detto abbiamo preso parecchi giovani da poter far crescere, altri ne abbiamo presi proprio a valanghe, purtroppo non sono riuscito a comprare il portiere, stavo seguendo il portiere dell'Udinese di 18 anni che è veramente molto forte e molto promettente però purtroppo dopo un po' di offerte non sono riuscito ad accaparrarlo, ci proveremo nella prossima sessione. Anche quello qualcuno di voi me l'aveva consigliato però come detto io ci stavo provando ma anche altri giocatori che mi avete consigliato ho provato ad acquistare ma per un motivo o per un altro non sono riuscito a farli venire qui sul pescherecio. Si vede una sega comunque con la neve, ci sono pure bianchi, azzurri, non andiamo sempre con la nostra difficoltà, abbiamo, sbaglio sono su esperto, si dovremmo essere esperto. Attenzione, è per me che sono una pippa nei giochi di calcio su gran chiestare. Attenzione vai così, Akpom, mamma mia Akpom, ma che cazzo me ne frega che si è fatto male Malimortacci vostra? Questa era una ripartenza cazzuta e cattiva. Guarda che bastardaggine però eh. Non si fa così arbitro, il vantaggio si dà in altre occasioni, non adesso, quando stavamo in netta posizione di attacco in superiorità numerica tra l'altro perché poi Akpom là se ne sarebbe andato. Magari all'aceto se ne sarebbe andato. Facciamo una partitozza così abbastanza veloce, attenzione, passaggio filtrante, cifra, mamma mia meta. Capisco che è difficile sul campo però ha quasi ammazzato un bambino sul secondo anello, che cos'è? Questa volta in questo video ci faremo una sola partita, poi magari più avanti ne faremo anche due a partita. Qualcuna me la farò per conto mio in modo tale da poter salire più facilmente verso la Premier con il nostro Morigambe. Tutto l'ha andata ancora lunga, le partite con FIFA ce ne saranno diverse. Proseguiremo anche con il nostro Ultimate Team, che in realtà è un gioco da un bel po' nei prossimi giorni, credo che ci metterò per fare la prossima partitozza. Attenzione, grande così Ketri. Attenzione, ci prova Benzia. Mamma mia! No, cazzo, è troppo lento lì. Ha fatto un ottimo... Possesso palla, limite dell'area, stavano cercando di... Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Attenzione, Otsunali che è rientrato dopo l'infortunio, un altro di quelli promettentissimi per quanto riguarda il Morigambe. Dovrebbe crescere parecchio, quindi... Insieme a Benzia, tra l'altro. L'altro giocatore che abbiamo acquistato, il nostro attacchante. Occhio. Attenzione. Insieme anche al difensore Sar, un altro che dovrebbe crescere molto. Quindi abbiamo fatto alcuni acquisti mirati. Ma che cazzo fa la scivolata sul mio? Vabbè, è stata una serie di scivolate da panico tra loro, ma... Ci può stare, va bene. Attenzione. Dai, dobbiamo assolutamente vincere la partita di Coppa, BFA Cup. Attenzione, Benzia, ci prova. Attenzione, maledizione. Con cattiveria. Isla. Asolutamente segnare almeno un gol, perché si cimpallinano da un momento all'altro, se no, attenzione, attenzione, non la sono tirata. Rischio. Grande portiere, così, subito. Ripartiamo a bomba. Akpom. Scatta come se non ci fosse un domani, Akpom. Eh, spallata, ma che cos'è? Con quanta cattiveria. No, ma che cazzo fai? C'era quello che si era insinuato nell'area, tu la dai così a random. Ricordiamo che i nostri pescatori stanno pian piano crescendo anche sul peschereccio. Dove sono tutti i pescatori, i gamberetti. Mamma mia, Akpom. Era Akpom, non lo so, credo di sì, però. Ha fatto un ottimo movimento in area, poi si è un attimo piantato con... Grande così... Esageriamo con tutte queste scivolate, a noi siamo sulla niente, però. Eh, Otsunali, non lo facciamo affaticare troppo, che è ancora leggerissimamente infortunato, però mi aveva fatto... Mi era arrivato un messaggio dove mi aveva detto che voleva giocare, quindi... Facciamo giocare. Grande Sar. Eh, che cos'è? Un lotto che ripartiamo noi. Sì, va bene, don't worry, fratello, che... Spacchiamo di cura al secondo tempo. Forse. Attenzione, Sarra. Grande Sarra, mamma mia. Sarra è grandissimo a questo... Che Otsunali. Ci sono attaccanti, quindi va lui. Eh, ma dove cazzo va? Aspettate, mettiamo un po' più ultra-offensiva, perché questi non salgono. Ci può pensare Otsunali a fare tutto, che è un centrocampista. Neanche offensivo, tra l'altro, quindi... Attenzione! No, mamma mia, che gollo. Hanno fatto un bellissimo gol, però non ci sta, cazzo. Il primo tiro in porta che hanno fatto, ci impalli... Ehi, guarda che figlio di troia. Cioè, un tiro in porta hanno fatto sti bastardi. Inizioni. Vai Morecambe. Attenzione! Cos'è fuori gioco? Sì, ci stava, ci stava. No, non va bene così, non va bene. Possiamo perdere in Coppa. La fake-up è importantissima per il Morecambe. E il pallone se ne va via. Attenzione! Grande Sarra, mamma mia, un muro in difesa. Quegli altri c'è un po' dei salmi ricapati, ma... Attenzione a Sarra. Così ripartiamo con calma. E circospezione. Palla larga. Grande così. Grande così. Ma porca puttana. Atticava pure sbagliato, maledizione. Però sotto porta non puoi sbagliare così. Hackbom, anche se lo... Indirizzi il tiro, cioè indirizzalo bene, cos'è? Isla. Non è meritato questo vantaggio, non vorrei dire niente. Eccola. Rischio. Ma partire anche dove dobbiamo cambiare. Andiamo palla a terra. Buono l'appoggio. Buono. 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 Attenzione. Guarda questi, che cazzo. Maledizione. Dai con cattiveria. Dai che siamo a 71esimo, non possiamo... Siamo nozionali, grandissimo. Dai che così. Vai Bernardeschi. Che cazzo è... Attenzione, panico. Bernardeschi. No. Eh, vacca puttana. So per quale motivo è uscito un attimo il menu del... La play. Mar... Vai così! Uh, porca proia. Attenzione, ci prova. Bernardeschi. Centro. A spazio per tirare. L'edizione. Rischio. Attenzione, cambi, cambi. Assolutamente. Posto di Benzia. Chi abbiamo in attacco? Mullin, mi sembra. Eh... Mullin. Rejnen al posto di... Bernardeschi. E... Bejarano lo sostituiamo con... Ehm... Mettiamo... Ralt. E scambiamo... Azog con Ralt. Facciamo l'attacco totale poi. Merda, ci stanno impallinando. Attenzione. Quello molto fisico per il possesso di pan. Bella cacata. Sti passaggi... Randomici proprio. Attenzione. Rischio. Eh, vabbè. Adesso sì che è finita. Maledizione. Attenzione mu... Pericolo. Mamma mia, cazzo. Però questi puttana troia sotto porta sono dei cacati, eh. Mamma mia. Guarda, no. Vabbè, se ha sbagliato questo, significa che era destino perdere. 2-0. Ci sta. Cioè, non ci sta in realtà, però. La partita strana, perché hanno avuto due occasioni, questi due gol ci hanno fatto. Noi invece abbiamo preso, non dico appallonato il portiere, però qualche pallonato in faccia gliel'abbiamo data. Eh, fa pure il terzo. Ma che cazzo è? Eh, vabbè. Ok, ci hanno un rateo di fuoco da panico questi. Ma che cazzo fa quel salame ricapato? Vabbè. Niente, è andata così. 3-0 proprio. Ci hanno arato. Come se non ci fossero domani. Tre tiri hanno fatto. No, quattro. Vabbè, quattro tiri. Tre in porta. Tre gol. Noi cinque tiri in porta. Manco per cazzo. Va bene. Eh, vabbè. Che dobbiamo fare, ragazzi? Ci vediamo con il prossimo appuntamento con FIFA. Non so qui cosa stiamo facendo. Ancora qualche sagginolletti. Colloquio giocatore. Ah, sì, che voleva giocare. Vi avevo detto Zunali. Vabbè. Che possiamo fare? Niente. Andiamo avanti. Qua abbiamo gli ultimi dieci minuti di mercato, ma non credo che riusciamo ad acquistare più nessuno. Che abbiamo venduto? Ah, sì, l'altro portiere che ci stava tutto. Va bene, dai, ci vediamo allora con il prossimo appuntamento, ragazzi. Come sempre, commentate e fatemi sapere la vostra. Partita sfortunatissima, quella del Morecam. Vabbè, ci può stare. Un saluto a tutti da Queltaleale. Grazie. Grazie.